Miscredente, eretico, aduratore del diavolo, finirai all'inferno bruciato. E se le premesse sono queste, che cosa non può essere edificante, eh? Gli italiani! E' un'esplosione di iscritti, qua la persona mi si è chiusa, e quindi, insomma, c'è stata un'esplosione di iscritti, tanta roba, continuate a iscrivervi, dai, che così mi viene voglia di fare i commenti sgrammaticabili, infatti siamo nella rubrica commenti sgrammaticabili e insulti d'amore, eh? Lo so che vi è mancata tanto questa rubrica, però più vi iscrivete e più ci sarà, eh? Allora io direi di iniziare, eh? Il primo commento, quindi se ho capito bene sei passato dalla critica giusta ai testimoni di Giova a criticare direttamente Dio e cosa speri di otterere? E io l'ho scritto così, fammici un po' pensare, l'ho scritto così un mese fa e ancora non ci ho dato una risposta, perché? Che poi quante divinità al mondo ci sono? Migliaia! Vorrei utilizzare un'espressione di Ricky Gervais, no? Facciamo finta che ci sono 7.000 divinità al mondo, anche se magari ce n'è di più, eh? Cioè, io credo a una divinità in meno rispetto a te, io credo che 7.000 divinità non esistano, Tu invece credi che 6.999 divinità non esistano, tu credi alla tua divinità, tu credi alla tua idea di Dio Penso che... possiamo andare avanti Qui c'è una leva, attivato il circuito Z, bisogna disattivarlo, in questa pagina Sei una persona eccezionale, veramente! E questa ve l'ho messo solo per poter mettere lo sketch di Abba Tantuono, comunque grazie Massimo, un abbraccio, grazie tantissimo E dai, organizza un'altra squadra e chiama l'Isetta, fai attenzione però che non ti scappa al morto, e tu messo dentro per infamia e ingiurie Non sei anni, non sei anni non te li toglie nessuno In Puglia, pieno, se trovi un testimone di Giova che viene a casa tua e ti ruba e stupra tua figlia, telefona al figlio di Grillo, arriverete a un accord Io non ci ho capito un cazzo E qua c'è una testimonia di Giova, tra l'altro anche molto bella dalla sua foto, profitto sembra una bella ragazza Che mi ha scritto un po' di commenti che vi leggerò Poveraccio! Io sono uscita dalla cattolica ma non ho bisogno di vomitare ciò che ho subito dai preti e dalla religione Ma che problemi hai? Boh, vai da un medico invece di tirare merda inutilmente Poveraccio! Qualcuna ti ha detto di no? E non sei riuscito a farti nominare servitore? Boh, a me non mi hanno fatto suora madre ma non ho aperto un canale per questo Mi sta facendo tornare la tosse Io ero a un passo dal divertente servitore di ministero Mi ci avrebbero fatto di lì a poco Ma la coerenza prima di tutto amici miei Immagino una coppia che non va più d'accordo Litigano di continuo, decidono di separarsi e lo fanno Ma invece di rompere con il passato continuano a cercarsi Questo mi sembrano tutti quelli che dicono che sono usciti Tra virgolette Come se ci fosse chissà quanti lucchetti per aprire chissà quanti cancelli Ma tuttavia sono qui a parlarne In primis l'apostataccio Jung diceva Quando le persone trovano sempre da ridire sugli altri Significa che non si sono sviluppate e proiettano il loro lato inferiore Anche poeta Abbiamo il professorone che ci parla di Jung A me piace quelli che vengono nella mia sezione commenti A psicanalizzarmi, capito? Infatti ogni tanto gli dico Girami il tuo IBAN che almeno ti pago la seduta Perché senza di te non c'è la frarea andare avanti Perché sei tu che mi indichi la via Sei tu che riesci a psicanalizzarmi così bene Non conoscendomi, vedendomi in un video Dove vedi solo una parte di me stesso E quindi Voi mandate mi l'IBAN Scrivete mi l'IBAN che io vi pago la seduta psicologica Oggi viviamo nell'epoca della psicologia fai da te Uno legge due minchiate che scrive Anche degli psicologi fatemelo dire Dicono un sacco di minchiate Perché la laurea non è che ti dà Diciamo la possibilità di non commettere errori Ci sono persone che si sono laureate Che secondo me la psicologia dovevano proprio lasciare stare Mi dispiace dirlo Ma è così Perché degli psicologi Non Cioè ci sono psicologi eccezionali In rete Ce ne sono alcuni Che però Aizzano le persone Le une contro le altre Ecco se uno psicologo fa questo Se mette tutti contro tutti Vittima carnefice qua e là No Trova sempre il carnefice nell'altro Non fare mai un'analisi su di te Trova sempre il carnefice all'esterno Ecco questo A me fa schifo Questo discorso È un discorso settario Il discorso settario è di dire Io sono nella verità Non mi devo mai mettere in discussione La colpa la cerco all'esterno Ecco dei psicologi che dicono questo Ce ne tanti in rete Mi dispiace Io sinceramente ne farei volentieri a meno Secondo me hai bisogno di una bella terapia farmacologica E adesso siamo di nuovo alla mia amata Quella con cui scapperò in luna di miele Perché la farò uscire E poi leggerete sul giornale Testimone di javascappa con la postataccio Finalmente capisce cosa significa Farsi una scopata come si deve Scusate Fatemi fare un po' di ironia Perché le persone del mondo Eh Sono meglio Diciamocelo Dai Voi che volete tante cose Prima di un commento Non vi vergognate Io sono stata cattolica In una religione Che ha mi abbattezzato Senza chiedermi il permesso Mi sono ritrovata in un posto Che non mi piaceva E non era conforme assolutamente Con le mie idee Vuoi intervistarmi? Sì ti voglio intervistare No vero? Sono diventata testimone a 23 anni Io ho anche 22-23 anni Eh Speriamo che anche tu Poi ti sveglierai Dopo uno studio approfondito Della Bibbia Ma questo non piace Giusto? Piazza e parlare Bene Qua forse secondo me Vuole a scrivere Piazza e parlare male Di che è uscito dai testimoni E che è uscito Dalla chiesa cattolica Che è più apposta Da di lei Non c'è nessuno No eh È bello vincere facile Con queste persone Fai un'intervista a me Poverello Guarda già che Guarda già solo Che mi hanno battezzato Cattolica neonata Che non capivo nulla Mentre per essere battezzata Testimone Devi fare uno studio Della Bibbia Approfondito La dice tutta Ma si sa Non c'è più Non c'è più sordo Di chi non vuol sentire Lei fa gli studi approfonditi Eh Allora Chiariamo un attimo Il discorso Battesimo Della chiesa cattolica Allora Che sia scritturale o meno Non me ne fotte Proprio niente Se la cosa è scritturale o meno Ognuno Crede a quello che vuole Se c'è una persona Che vuole credere Agli asini Che volano Per me è libera Di farla Quindi Il discorso Teologico A me non mi interessa Il discorso dottinario Non mi interessa Però Discorso battesimo All'interno Della società In cui viviamo Perché A me Mi hanno Battezzato Cattolico Da neonato Non mi metto A piangere Al massimo Io vado a fare Il documento Apostasia E mi si sbattezza Eh Chiusa la storia Ma se un prete Mi becca per strada Mi saluta Mi Mi frequenta Non è che mi vede Come l'anticristo Invece il battesimo Nei testimoni Di Giova Nonostante che viene Fatto a minorenni Perché io conosco Persone che si sono Battezzate a 8 9 10 11 12 13 Anni Fino ad arrivare Ai 18 Io mi sono battezzato A 22 23 Quindi ero già Maggiorenne Però conosco La maggioranza Dei testimoni Dei figli Dei testimoni Di Giova Che crescono In quel contesto Si sono battezzati Da minorenni Che secondo la legge Italiana C'è la capacità Di non intendere E di volere Quindi non c'è Proprio questa chiarezza Lo sa Lo sa La giustizia italiana Però Di cosa Devono essere puniti Coloro che fuoriescono Con l'isolamento Sociale Totale Lo stracismo Un ragazzino Che decide Una ragazzina Che decide A 12 anni Di battezzarsi Non è consapevole Di quel che sta facendo Di cosa La sua decisione Comporterà Perché Voi dovete sapere Che un 12enne Testimone di Giova Si battezza Nel 90% Se non nel 99% Dei casi Perché lo fanno I suoi coetanei E le persone Intorno a lui Un po' Gli fanno pressione C'è chi Chi più C'è chi meno Ci sono famiglie Che ci tengono Di più Al battesimo Ci sono famiglie Che dicono Prenditi il tuo tempo Prima di battezzarti Ma Non si può negare Che a livello sociale Dentro le congregazioni Se ti battezzi Ti elevi di status Vieni più accettato Capito? Questo è il punto di rimente Un ragazzino Di 12 anni Si battezza Per essere accettato Dagli altri E poi Se decide Di uscire Io parlo Con minorenni Che vorrebbero uscire E non possono uscire Vorrebbero Mi dicono Mi pento Mi sono pentito Di essermi battezzato Tornarsi indietro Non lo rifarei Che cosa volete Rispondere A queste persone? I cattolici Battezzano i bambini Ma se ti vuoi Sbattezzare Come cattolico Non subisci Nessuna Punizione Io su questo Mi incazzo Eh Da Da Format ironico Che parte Diventa un format Sfogo Perché io non posso più sentire Sti ragazzi Che mi chiamano Ma anche adulti Che hanno deciso Di battezzarsi Da giovani Che erano appunto Secondo la legge Incapaci Di intendere Di volere Però una decisione Del genere Se la Se la assumono E gliela Conferiscono Questi da Watchtower No? A me Tutto questo Mi fa schifo Mi fa schifo Mi fa Perché non Non è possibile Questo è un ricatto Questo è un cazzo Di ricatto Che deve cessare In questa società Deve Ma io non so Se non ve ne rendete Conto Cioè Ma veramente Io faccio appello Alla vostra Consapevoletta Un attimo Del diritto Delle persone Ma lasciamo stare Anche il diritto Parliamo di logica Secondo voi Ha senso Immarginare Una persona Che ha deciso Di battezzarsi A 12 anni A 10 11 12 13 anni Ha senso Sapeva Che cosa stava Facendo O lo faceva Solo per Perché vedeva Gli altri Che si battezzavano E voleva sentirsi Anche lui Più accettato Può una persona Cambiare idea In una cazzo Di democrazia Può Io qua Veramente Mi inalbero Mi inalbero Perché mi sono Stancato Di sentire Persone Che mi chiamano Che non Sono libere Di decidere Non sono libere Di decidere Niente Della loro vita Vanno all'università E si sentono In difetto Perché vanno All'università Vorrebbero uscire Di lì Non frequentare Più le adunanze Ma non possono Perché se no I genitori Iniziano a fargli Pressione E se si dovessero Se dovessero Uscire Se dovessero Diciamo così Fare apostasia Sarebbe il delirio Non li farebbero Più vivere Vi sembra normale Che sia ammesso Tutto ciò In uno stato Democratico Cazzo Vi sembra normale E vai che Da format ironico È diventato Format sfogo Ma scusate Io sono stato A letto Un po' di tempo Devo anche io Un po' Buttare fuori Perché ne sento Tante Fatemele buttare fuori Poi arrivano Questi commenti Sapientoni Capite Che L'altro giorno Hanno scoperto Il mio video Sono belli Infarciti Di propaganda Sono plagiati Mentale Fino all'osso No E io non glielo posso dire Perché non lo capiscono Perché c'ero anch'io Da L'ero anch'io Plagiato Quindi io non posso Prendermela con loro Perché lo so Che hanno il cervello fritto Lo so che non ragionano Con la loro mente Io confido Che queste persone Prima o poi Si sveglino Ok Capito Questa era battezzata Cattolica Io non mi lamento Che ero battezzata Cattolica Io non dovrei Neanche incavolarmi Perché io Da testimoni di Geova Le ho dette Anch'io Ste cazzate Anzi Se volete Ho ritrovato Nel mio hard disk Le cose Che scrivevo Da testimoni di Geova Io Le ho lette Con un profondo Disturbo Vi dico la verità Però Penso Che per voi Non per farvi fatti I miei Assolutamente Ma penso Che possa essere Molto 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 Utile Vedere Me Quando ero Testimone di Geova Almeno capite Il plagio mentale A che livelli Arriva Io Vi do a me stesso Vi do La mia vita Perché Per me È un dolore Averle lette Io Ste cose Ma ve le faccio Leggere A voi Vi assicuro Che renderle pubbliche Non è al massimo Per me Perché c'è qualcosa Che mi Mi dà un profondo Fastidio Viscerale Ma lo faccio Perché almeno vedete Come è un plagiato E come una persona Libera Dai andiamo avanti E io gli ho scritto Vuoi che ti intervisto Bene Quando vuoi Tanto io lo sapevo Che non Che poi avrebbe glissato Li conosco io ormai Questi che vengono sul mio canale E lei mi risponde Guarda Non ne vale la pena Con quei quattro gatti Che ti seguono Poveracci Cosa avete visto Per accanirsi così Come se io Aprissi un canale Per parlare Della mia vita Da ex cattolica Con tutto quello Che ho visto in chiesa Prima di studiare La bibbia Ma non ne sento Il bisogno Da frustrata Di parlare male Di un posto Da cui sono uscita Perché non mi trovavo bene Non sono mai riuscita A capire Avete fatto la scelta Di essere testimoni Giusto Poi siete usciti Qualcuno vi ha ucciso Non mi pare Fatevi la vostra vita E non rompete le balle a noi Accanirsi Per avere due applausi Da quattro poverelli Il senso Io lo faccio Ma impara a scrivere Per cortesia Imparate a scrivere La punteggiatura Mettono i puntini ovunque Come fossero punti E virgola Il mazigrammar Che in me soffre Io non lo dico mai Perché non voglio Fare l'intollerante Sull'ignoranza Ma oggi siamo nel 2023 L'ignoranza In un certo senso Non è più scusabile Capito Imparare a scrivere Ci vuol poco Vabbè dai Lasciamo stare Come vedete Il raffreddore appostata Mi ha veramente Influsso Tanta appostasia Io faccio L'intervista Ma parlo Della differenza Che ho trovato Tra quando ero cattolica E quando testimone E guarda Se vuoi saperla tutta Sono stata Anche disassociata Ma non ho avuto Nessun trauma Il trauma Mi viene Quando leggo Tutte le cazzate Che scrivete Che Dio Vi abbia in gloria Che dire La risposta Ho già data prima Caterina Cateri Cateri Adesso Diamo spazio Al mio Ungaretti Del canale Questo Ovviamente Ungaretti Scriveva Senza punteggiatura Invece Lei utilizza Un esubero Di punteggiatura E questo Non può che Creare un nuovo Genere letterario Che mi appassiona E che Secondo me Va scandito così Tutto il mondo Giace nel potere Del malvagio Quando Gesù Per 40 giorni E 40 notti Al deserto Ok Quando l'oppositore Ingannatore Trasformista E calunniatore Gli disse Fa un altro atto Di adorazione Gesù Lo abbandonò Satana Gesù Ok Molti apposti Ti dico Gesù Che è una religione Per fare Capire E che Omosessuale Bisessuale Satana Il calunniatore Oppositore Ingannatore Trasformista Avrà perso Tra di loro Vai su youtube Non ho ancora La capacità Polmonare Per leggere Tutto il commento Vai su youtube Scrivi Ci sono i preti I pedofili Omosessuali Bisessuali Più si parla di Geova Il calunniatore Eccetera Quando arriva Al grande tribolazione Giovanni potente Suo figlio Cristo Gesù Eliminerà Gli apposta Ti odiano Se stessi Tutti quelli Che scrivono Avete poco A vita La grande tribolazione E molto vicini Molti soffriranno Moriranno Quando esiste Il mondo Non si vedrà La grande differenza È molto più vicino E gli apposta Ti godono Che venga subito Loro esisteranno Più ricordatelo Persona In comincia Israele Con gli arabi Subito dopo C'è Roma Il papa C'è satana Diavolo L'oppositore Inganatore Un angelo L'apostataggio Lo chiama Straterrestre E l'oppositore Inganatore Calunniatore Trasformista E poi Coriandoli Cazzi e massi Sono in iperventilazione Detto questo Cari amici apostataci Vi rimando Al prossimo speciale Io Sono senza parole Senza fiato Senza speranze Ma con tanta apostasia D'esprimermi D'esprimermi Ciao Grazie a tutti